Mi chiamo Cristina, sono stata operata a un adeno carcinoma a 8 cm dal reddito. Adesso sono morita, però con la vibrazione ho sentito tutta questa parte, in basso la cocina, che pian piano si distranneva interiormente proprio. Dove l'hai sentito ancora? Dietro e poi anche? Poi ho sentito anche quando il colmo, avevo questa rigidità nel colmo e ho sentito le braccia, non puoi sprofondare, piano piano, e tutto che si allungava si distrandeva, tutto il colmo. E dopo abbiamo fatto il... E poi abbiamo usato il diapason, con il diapason. Ho sentito queste vibrazioni proprio che alentavano tutto il colmo, con il respiro, con tutto il diapason. E poi abbiamo fatto una seconda lettura sul lettino armonico. Esatto. E lì proprio mi sono distesa molto bene ed è comparso una vibrazione circa metà della schiena. Forse una persona che in palerda, ho sentito collegata con i piedi questa vibrazione. E gli altri? Che cosa è successo con gli altri? Le ho sentito prima? Ho sentito che il colmo proprio si è rilassato e si è disteso. Ok. E il tuo bacino, tutto il bacino, si è disteso proprio molto bene. Cioè io adesso, adesso, personalmente, che sono qui seduta, e proprio l'osso del coccigeno in maniera molto naturale. Ok. Lei, come lei si sente emozionale? Mi sento sempre molto leggera quando riaffronto il dolore, quello che ha avuto il percorso, della, dell'operazione, dei postuli, così. Quando ho queste percezioni fisiche, così, di distensione, mi sembra veramente di ritornarne proprio come prima. Grazie.